Beh, indubbiamente l'importanza e la valenza di questa gara non è tanto il punteggio, non è tanto il risultato fino a se stesso, ma è proprio l'esperienza fatta sul campo e provare quegli esercizi, come abbiamo parlato ieri con il direttore tecnico Casella, che si devono migliorare e solamente una competizione come questa può dare la possibilità. Abbiamo visto un fliche salto, bene eseguito, ha riuscito a mantenere l'equilibrio, una ribaltata senza mani. Ricordiamo che la scuola rumena La Trave è famosa, quindi sono davvero bravissime, espressive, è un piacere seguirle. Sì, una grandissima tradizione, una grande storia per loro nella ginnastica artistica. Ricordiamo la grandissima Aurelia Dobre nel 1987 a Rotterdam, quando vinse il primo campionato del mondo insieme al mio idolo, Dimitri Vilozercev. Daniela Silivas, ricordiamo, anch'essa grandissima atleta. Due atleti degli anni 80 che hanno veramente dato un'impronta alla ginnastica e rimarranno per sempre nella storia. Una scuola alla quale poi si ispira anche Claudia Ferré che allena la gallissone, ha ottenuto grandi risultati, soprattutto con Elisabetta Preziosa e Carlotta Ferlito, che sono due grandi interpreti di questo attrezzo. Bene, mi sembra l'esercizio. Io, Igor, devo assolutamente dare anche la lista delle giudici del volteggio, altrimenti non me lo perdoneranno mai. Allora, Carmen Basla, l'italiana Carmen Basla, ha giudicato insieme a Dan Nordly e la norvegese. No, scusate, sto leggendo. No, sì, sì, sono le stesse, le giudici delle junior e del senior. Poi abbiamo Tatiana Perskaya, la statunitense. Grazie. Grazie.